Inizia agosto e arriva il primo topless dell'estate 2024. È quello di Veronica Gentili, beccata dai fotografi del settimanale Oggi mentre si gode il sole e il mare insieme al fidanzato storico dopo un'intensa e proficua stagione televisiva. La giornalista e conduttrice delle Iene, 42 anni, è stata intercettata sulla spiaggia di Fregene, sul litorale laziale. Con il più classico e intramontabile bikini nero, Veronica Gentili mostra un fisico tonico e tra un tuffo, una nuotata e un bagno di sole esibisce anche uno splendido decolleté. Diana Sirena scrive sui social il giornalista Giuseppe Candela, che pubblica anche la pagina del magazine con le foto. Non è sola Veronica Gentili ma nella sua giornata d'estate prontamente immortalata dai paparazzi oltre al topless ci sono i baci e le carezze con il compagno a cui è legata da dieci anni. Si chiama Massimo Galimberti, ha 50 anni ed è un docente universitario, consulente editoriale e supervisore artistico per prodotti televisivi e cinematografici. La conduttrice delle Iene ha parlato di lui in diverse interviste e dichiarato che, oltre a essere il suo compagno di vita, Massimo Galimberti è per lei il suo migliore amico e il suo più grande complice. Fu lui, infatti, a spronarla verso la scelta di passare dalla conduzione dei talk politici a quella delle Iene. Il futuro in TV? Pere che per lei Mediaset abbia in serbo nuovi importanti progetti. Sono dieci anni che sto con il mio fidanzato, ha raccontato Veronica Gentili recentemente a Verissimo parlando proprio del compagno matrimonio. Non ci pensiamo ancora, non è una nostra priorità, ma abbiamo progetti.